Una buona domenica da Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. In A1 coda per traffico verso nord tra B1 con planare Firenze Nord e B1 variante di Valico. Possibili disagi inoltre per perdita di carico sempre in carreggiata a nord tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la 11. Ci spostiamo i FIPI per lavori e rallentamenti in direzione mare tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest. Siamo al traffico urbano di Firenze, segnaliamo chiusura in piazza San Marco con blocco temporaneo della circolazione, ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. E prima di salutarci per il traffico ferroviario a causa di un ritardo nella preparazione, il treno regionale 18583, Pisa Centrale Lucca quest'oggi è cancellato, i viaggiatori possono utilizzare il treno 18495. Muoversi in Toscana infine un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!